Quindi gli esseri di luce, gli angeli, la Madonna, Gesù Cristo non sono venuti a fare una religione, sono venuti a darci una mano attraverso l'insegnamento religioso, che è la scienza dello spirito, per farci emancipare. Vi siete mai chiesti, ma la Madonna perché appare ai cattolici e gli dice di ravvedersi? Se era un problema religioso, la Madonna doveva apparire agli atei, doveva apparire ai buddhisti, doveva apparire agli induisti, agli islamici, ravvedetevi, cioè andate a Cristo, invece appare a noi. Perché? La nostra vita è anticristiana, è una vita ipocrita, dove noi facciamo le cose esteriori della religione, ma non facciamo la pratica dell'insegnamento che Cristo è venuto a portarci, perché non lo comprendiamo, non ci è stato spiegato il Vangelo, non ci è stato letto. Quindi la funzione degli esseri di luce, così come ci ha spiegato Flavio e io ve lo ricordo, è quella di portarci un messaggio, che è un messaggio storico, profetico. Vi accadrà questo se non cambiate? Cioè la Madonna viene a dirci guarda di là c'è un precipizio, tu ci stai andando, vedi di sterzare a destra. La Madonna appare per quello, non appare per altro. Poi certo, per ricordare quel messaggio ti dice anche, fate una basilica qui, così mettete un post-it, chiamasi basilica, che ricorda che a Fatima è accaduto qualcosa di importante, dove la Vergine profetizza, per esempio, una terza guerra nucleare. Quindi la Vergine appare per dare messaggi, perché angelo vuol dire messaggero. Viene dal latino angelus, dal greco angelos.